Estra vuole continuare a crescere e a rappresentare una risorsa in termini di PIL di origine pubblica per questo territorio. Puntava in alto il presidente di Estra Francesco Macri quando circa un anno e mezzo fa si era insediato e i numeri del bilancio di sostenibilità anno 2016 gli danno ragione. Oltre 190 milioni di ricchezza distribuita nei territori di riferimento Italia Centrale in Primis, un gruppo industriale nel settore dell'energia tra i primi dieci in Italia, che però non perde di vista il suo carattere sociale, anzi lo rafforza. Il 93,3% dei 616 dipendenti è a tempo indeterminato, i due terzi delle forniture si concentrano nel centro Italia, la Toscana da sola raccoglie oltre il 50% del valore. È un'azienda che ha tanti risultati grazie al sostegno dei cittadini ma restituisce molto al territorio perché esprime vicinanza alle amministrazioni pubbliche che sono le nostre socie indiretti e sosteniamo molte iniziative nel settore culturale, sociale e sportivo. E questo bilancio di sostenibilità, che è un documento moderno che dovranno fare tutte le quotate del prossimo anno, declina proprio i valori in gioco di un'azienda con una responsabilità sociale perché è così che vogliamo rappresentarci un'azienda sensibile, che offre servizi di prossimità e che si differenzia da modelli aggressivi puramente commerciali. Nel 2016 il gruppo Estra ha registrato un incremento del numero complessivo dei clienti ed ha visto scendere notevolmente i reclami per la vendita di gas e luce. E in attesa della quotazione in borsa, Estra strizza più di un occhio alla green economy e al settore delle telecomunicazioni. Estra ha nel suo gruppo, per esempio, Estracom, attraverso il quale si occupa di telecomunicazione. È proprietaria di asset fondamentali, di fibra, di infrastrutture, soprattutto nell'area pratese fiorentina, ma sta attuando un piano di sviluppo e di acquisizioni che ci consentirà di essere forse il principale operatore di telecomunicazione in Toscana. Ad Arezzo, per esempio, sono già iniziati i lavori nell'area Pratacci e cableremo l'area Pratacci, quindi porteremo la fibra e quindi alta performance telematica a tutte le aziende più importanti di Arezzo. Quindi stiamo già collaborando con il Comune a vari progetti anche su Wi-Fi pubblico e quant'altro. Cercheremo di modernizzare la città da un lato, ma di trovare anche uno spazio industriale e commerciale anche nelle telecomunicazioni.